Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, un atto di indirizzo per la stipola di un contratto preliminare per l'acquisizione del Teatro Cantero da parte del Comune di Chiavari. Il contratto prevede l'impegno dell'ente a comprare la sala e dei proprietari di vendere a 2 milioni di euro, cifra che era stata indicata come valore del cantero da un'aperizia dell'Agenzia delle Entrate di febbraio 2023 e a cui quindi il Comune deve fare riferimento. Nel contratto preliminare c'è anche un vincolo per l'acquisto, ossia che il 95% della cifra sia finanziata da Regione Liguria. Lo scorso marzo il presidente Giovanni Toti aveva annunciato a Chiavari il finanziamento di circa 2 milioni dal Fondo Strategico Regionale, proprio a questo scopo. Di norma lo stanziamento di questo tipo di fondi è previsto a luglio, non è chiaro se la situazione politica e giudiziaria che sta vivendo la Regione causerà ritardi. L'amministrazione attende novità da Genova ma per il momento non sono arrivate comunicazioni, quindi vuole procedere con un atto formale vincolato all'arrivo di quei soldi. I proprietari avevano già dato il via libera alla cessione, l'accordo era stato reso pubblico a fine gennaio, quindi su questo fronte non dovrebbero esserci sorprese. L'acquisizione rimane un primo passo verso la riapertura, ci sarà poi da ristrutturare il teatro e costruire un progetto di gestione che lo renda più moderno e polifunzionale. L'azienda Duferco ha fatto un progetto di ristrutturazione per il teatro che ha messo a disposizione del comune e prevede tre livelli di intervento, uno da 1,7 milioni, uno da due e uno da due e mezzo. Per il momento non sono ancora stati resi pubblici i nomi di investitori disposti a contribuire.